Sì, secondo me abbiamo provato il massimo possibile, però alla fine non siamo stati abbastanza furbi, non abbiamo difeso bene e abbiamo sbagliato, anche io che ho sbagliato il tiro libero che è passato alla finisca. Comunque sono stati loro più bravi, quindi non abbiamo fatto bene. Bene, grazie. Grazie.